Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un volume di considerevole importanza dal titolo La Corona d'Aragona e l'Italia. Sono gli atti del ventesimo congresso di storia della Corona d'Aragona che si è tenuto nel 2017 a Roma e a Napoli, organizzato dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e dall'Università degli Studi Federico II di Napoli. Il volume è stato pubblicato nel 2020 appunto dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e a cura di D'Agostino, Fodale, Miglio, Oliva, Passerini e Senatore e noi abbiamo il grande piacere di avere con noi a parlarci di questo importante volume il professor Francesco Senatore al quale io cedo subito la parola. Prego professore. Grazie, ringrazio molto per questo spazio che ci offrite e vi illustro un po' l'operazione. Ecco, come è stato detto, questo era un congresso, il ventesimo congresso della storia della Corona d'Aragona. Si tratta di una serie di congressi internazionali che è cominciata nel 1908, quindi siamo a più di un secolo. Il primo congresso di storia della Corona d'Aragona voleva e vuole ancora oggi portare all'attenzione degli studiosi questo complesso di stati che si distendono in tutto il Mediterraneo e che erano uniti nella persona del re d'Aragona. Quindi la Corona d'Aragona, è stato detto, comprende una confederazione di stati di diversa origine, di diversa grandezza, che mantenevano le loro istituzioni proprie. E di fatti, e questo si rispecchia anche nella composizione di una commissione permanente che organizza i congressi della Corona d'Aragona e che ha dei rappresentanti dell'Aragona, delle Baleari, della Catalogna, della Sardegna, di Napoli, della Sicilia, della Navarra, di Valenza, nonché della Castiglia e della Francia, che non facevano parte, o almeno non per l'integrità del loro territorio, solo per piccole porzioni, di questo complesso della Corona d'Aragona. La Corona d'Aragona comincia quando c'è un'unione dinastica tra la Contea di Barcellona e il Regno d'Aragona nel 1134. E fin dal principio l'unione dinastica ha significato che Contea di Barcellona, con le sue istituzioni in qualche modo collegiali, e Regno d'Aragona con l'istituzione monarchica, hanno avuto fin da allora amministrazioni diverse. Dunque nell'intero arco di questi venti congressi si sono analizzati, come potete immaginare, una pluralità straordinaria di tematiche, cioè l'intera storia, si può dire, dell'Europa, vista soprattutto, come dire, dal Mediterraneo. E questo giustifica anche l'enormità di questi atti, cioè tre volumoni, li vedete, di 1662 pagine, che si vanno a giungere a ben altri 64. Perché lo scopo di questi congressi, che si tengono ogni 4-5 anni, c'è stata solo una forte interruzione durante la Seconda Guerra Mondiale e il periodo della Guerra Civile Spagnola, lo scopo è quello di mettere insieme, come dire, le migliori energie di tutti gli studiosi, i quali nel segno di questa pluralità culturale hanno quattro lingue, diciamo così, ufficiali del congresso, cioè catalano, castigliano, italiano e francese. Il che è abbastanza curioso oggi con l'inglese che la fa da padrona. Vero è però che queste lingue, nel colloquio scientifico fra noi studiosi, sono quasi alternative, nel senso che c'è una forte diffusione di comprensione reciproca e anche quando studiamo abitualmente ci può capitare di leggere fonti e studi in queste lingue, oltre che naturalmente nel latino, che è stata la lingua veicolare del Medioevo. E quindi immaginate che nel totale arriviamo a 34.000 pagine, 1700 saggi e via dicendo. Quando si è organizzato il convegno a Napoli nel 2017, per la prima volta si è introdotta la sede di Roma, che non era mai stata presa in considerazione perché non c'entra con la corona d'Aragona, benché sia stata fortemente legata al mondo iberico, per esempio basta dire, basta richiamare i due grandi papi Borgia, cioè Callisto III e Alessandro, il famoso Rodrigo Borgia, no? E Alessandro VI. E di fatti, ci sono quindi state quattro sessioni a Roma dedicate a un... il titolo generale del convegno è, ovviamente, tenendosi in Italia, la corona d'Aragona e l'Italia. Le sessioni romane sono state dedicate alla corona d'Aragona e la curia, si intende la curia papale, negli anni dello scisma, cioè lo scisma d'Occidente che separò l'obbedienza, che separò tra 300 e 400 l'obbedienza avignonese, come si dice l'obbedienza papale, che comportò una fortissima contrapposizione, perché ovviamente i vari stati, le varie signorie, le varie fazioni riconoscevano l'uno o l'altro papa per le loro finalità politiche e anche di politica ecclesiastica. E invece i due secondi volumi, corrispondenti alle quattro sessioni napoletane, quattro sessioni però che vedevano in parallelo più incontri, i volumi invece napoletani sono dedicati, anche qui c'è una novità, alla memoria degli aragonesi nel regno di Napoli e nei domini italiani. Che cosa vuol dire la memoria aragonese? Naturalmente, nel caso precedente che abbiamo detto, cioè della corona d'Aragona durante lo scisma, all'interno di quella categoria sono comprese una pluralità di approcci di tutti i generi, cioè di tipo culturale, di tipo economico, di tipo politico. Invece la connotazione delle giornate napoletane era piuttosto di tipo culturale. In che senso? Nel senso che parlando di corona d'Aragona e di memoria della corona degli Aragona, non della corona d'Aragona, quindi degli Aragona come dinastia, in particolare durante la dominazione in Italia, la corona d'Aragona è retta da una dinastia castigliana, la dinastia cosiddetta dei Trastamara, il cui maggiore rappresentante è Alfonso il Magnanimo. Dunque, in questo periodo Alfonso il Magnanimo, a metà del 400, risiede a Napoli. Dunque, la memoria di questa, di questo dominio aragonese di Napoli, tra 1442, forse anche 1435, quando arriva e sbarca, comincia la guerra di conquista Alfonso d'Aragona, detto il Magnanimo, è 1501, ma anche più in generale il ricordo del dominio aragonese in Sicilia, che comincia nel 1282, significa, parlare di memoria, significa riflettere su come la storiografia nei secoli successivi, quindi soprattutto nell'età moderna, ha esaltato questo periodo. Ma lo ha esaltato anche perché il periodo aragonese fu, per Napoli in particolare, uno dei più floridi per la città e in generale per tutto il regno. La corte napoletana di Alfonso il Magnanimo fu un crocevia dei più importanti artisti e intellettuali del tempo. Pensate solo che a Napoli furono prodotte opere basilari nella storia della cultura europea, come il famoso pamphlet di Lorenzo Valla, dell'umanista Lorenzo Valla, che contestò la autenticità della donazione di Costantino. Secondo la donazione di Costantino, questo imperatore, era un falso, avrebbe donato alla chiesa di Roma l'intero occidente. Ma qui visse anche Bartolomeo Faccio, un genovese, che fu storiografo ufficiale di Alfonso il Magnanimo e che lo celebrò in un'opera che ha influenzato moltissimo la cultura e la storiografia europea. e anche qui a Napoli cominciò i suoi primi passi nella corte di Alfonso e continuò poi con il figlio Ferrante Giovanni Pontano, che è un altro grande umanista. Ancora più rilevante fu la committenza della corte Alfonsina di Napoli, che però era una corte internazionale in cui vivevano e collaboravano insieme valenzani, soprattutto moltissimi valenzani, esperti impiegati soprattutto nell'amministrazione fiscale, catalani, castigliani, siciliani, e in questa corte c'è una committenza, ripeto, importantissima di opere d'arte, che hanno avuto un'enorme influenza nel rinascimento europeo. Basti pensare all'arco di Castelnuovo, che è questo qui. Questo è un altro congresso napoletano che pure si è tenuto a Napoli nel 97 e che giustamente mette in primo piano nella copertina l'arco di trionfo in marmo al centro delle due torri all'ingresso di Castelnuovo, detto anche Maschio Angioino. A quella opera d'arte parteciparono numerosi scultori toscani e lombardi, scusatemi, ma l'altra cosa importantissima per darvi un po' il senso della vitalità di questa corte è la biblioteca. Alfonso d'Aragona viene celebrato da poeti, da letterati, da storiografi, come un grande appassionato di libri, tra una campagna militare e l'altra, campagna in cui era molto capace e spietato, pare che avesse l'abitudine della cosiddetta ora del libro. Cioè leggeva, si faceva leggere opere soprattutto come la storia di Livio, dagli umanisti che lo circondavano, tra cui ce n'era un altro che dovevo assolutamente ricordare, un siciliano, Antonio Beccadelli, detto il panormita, che pure ci ha lasciato un ritatto di Alfonso. E dunque in questo interesse per il libro porta alla fondazione di una biblioteca straordinaria, ricchissima, di manoscritti miniati con le opere più rare della letteratura, dell'astronomia, della storia antica, che pure ha avuto un'enorme influenza sulla storia europea. Cioè potremmo dire il modo di essere re, il modo di sostenere la cultura artistica, diciamo figurativa, letteraria, storica e la biblioteca, questo modo ha avuto veramente una una grande influenza. E come? Quando i francesi conquistano il regno di Napoli nel 1495, sconfiggendo il nipote di Alfonso il Magnanimo, portano via questa biblioteca. E questi manoscritti per la gran parte sono nella Biblioteca Nazionale di Francia e sono stati il nucleo di questa enorme biblioteca europea. E una parte anche a Valenza, ma la parte principale è in Francia. E in qualche modo è stato un modello. E lo è stato anche per un uso, sempre più diciamo sottolineato dagli studiosi, per un uso particolare di quella che noi oggi chiameremmo propaganda, ma che più correttamente potremmo dire la rappresentazione del potere, l'esaltazione del potere. La capacità di questi umanisti, di questi artisti che sono al servizio di Alfonso il Magnanimo, ha avuto conseguenze gigantesche. Per questo voi comprendete come nei due volumi ci sia una parte enorme di articoli dedicati alla miniatura, alla biblioteca, alle opere d'arte, alle opere storiche, alla lunga durata di questa memoria. Per esempio si parla di vicere di epoca del 600 o del 500 che andavano a traslare finalmente le spoglie mortali di Alfonso in Spagna dove lui voleva essere seppellito, quindi che vogliono come dire tener fede al testamento di Alfonso. E più in generale questo volume si occupa ovviamente anche di Sicilia e di Sardegna, cioè anche per dire di archivi, della lunga durata delle istituzioni. Perché anche le istituzioni sono durate a lungo, cioè quelle istituzioni della Corona d'Aragona e dei suoi singoli stati hanno avuto una notevole durata nel corso dell'età moderna. Per quanto riguarda la Corona d'Aragona iberica, cioè per la Catalogna, la durata è fino al 1715. Perché? Con la guerra di successione spagnola, siccome la Catalogna si era schierata per il pretendente asburgico, Filippo V, re di Spagna e della dinastia dei Borbone, emana nei primi anni del 700 una serie di provvedimenti che mettono fine a questa autonomia. A questa data si richiama anche l'indipendentismo catalano. In particolare si richiama e festeggia, festeggia, commemora, l'11 settembre 1714 quando Filippo V di Spagna entra in Barcellona e porta a termine la sua politica assolutistica. L'assolutismo è il contrario, come dire, di questa dimensione plurale degli stati della Corona d'Aragona. Quindi devo dire francamente che anche quest'aspetto plurale, se non proprio autonomistico, è presente all'interno dei congressi della Corona d'Aragona. Non nel senso più dozzinale, diciamo, volgare della rivendicazione di una indipendenza. Naturalmente è legittimo volere un'indipendenza, ma io mi riferisco a quegli aspetti, diciamo, strumentali per cui rispetto a un progetto politico si modifica, si violenta la storia per una finalità più immediata. Non in questo senso, ma indubbiamente nel senso di una valorizzazione di questo enorme patrimonio storico e della sua influenza, i congressi della Corona d'Aragona sono stati e sono nella storiografia un fondamento di grande importanza. E dicevo, dunque, questo significa che noi abbiamo avuto nelle sessioni napoletane, mi permetto di parlare più di queste perché occupano due volumi e perché sono quelle di cui mi sono occupato specificamente io, insieme al collega Guido D'Agostino, e sono divise in memoria artistica, memoria istituzionale, memoria storiografica, quindi c'è questo refrain del modo in cui, si dice anche, qualcosa vive dopo la sua morte. Cioè, la Corona d'Aragona, con l'autonomia della sua formazione politica, in particolare per Napoli e per la Sicilia, con l'autonomia di dinastie locali, finisce a un certo punto, no? In Sicilia finisce proprio con il padre di Alfonso il Magnanimo, a Napoli finisce la dinastia locale con la conquista di Ferdinando il Cattolico, che è peraltro parente degli Aragona o Trastamara di Napoli. Però dopo questa fine, la memoria, l'esaltazione, lo studio e anche la vita dopo la vita, che in tedesco si dice il Nachleben, cioè le istituzioni che continuano ad essere influenzate dalla loro costituzione nei tempi appunto medievali, o anche naturalmente la storiografia. Queste opere delle persone che ho citato, Faccio, Panormita, anche Pontano, hanno influenzato la nostra lettura di quell'epoca in maniera straordinaria e quindi ci condizionano ancora oggi, ma anche il loro modo di scrivere la storia e, come abbiamo detto, il modo di organizzare una biblioteca, come è avvenuto nel caso della Biblioteca dei Re Aragonese. Pensate che i grandi studiosi di libri, intendendo il manoscritto, la miniatura, ovviamente il suo contenuto, hanno ricostituito idealmente questa biblioteca in maniera virtuale ed è per l'appunto un enorme catalogo con bellissime riproduzioni che si, mi pare che si chiama Europeana, con soprattutto uno dei relatori del convegno, Gennaro Toscano, che è il conservatore della sala dei manoscritti a Parigi. E dunque infiniti, diciamo, argomenti che sono percorribili in questi volumi, non solo ovviamente grazie alla scansione tematica, ma anche a uno strumento che in genere non c'è negli atti dei convegni, quindi mi permetto di richiamarlo, cioè ci sono indici analitici dei nomi, dei toponimi e persino dei manoscritti citati, il che significa che è possibile raggiungere, in questa enorme pluralità di contributi, raggiungere le interpretazioni, le informazioni che interessano al singolo studioso, perché ovviamente un volume del genere non si legge come un romanzo, no? Si legge a seconda dei propri interessi. Voglio richiamare i coordinatori, gli organizzatori del congresso e i curatori. In primo luogo il professore Miglio, Massimo Miglio, che è il presidente dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, potremmo dire la casa degli studiosi del Medioevo in Italia, perché grazie alla sua lungimiranza, al suo impegno, che abbiamo fatto questa grande, che abbiamo non solo fatto questo convegno, ma abbiamo introdotto questo elemento di novità della sede romana, che non c'era mai stata, e il collega Salvatore Fodale, che al tempo, se non ricordo male, era vicepresidente o comunque era nel direttivo dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e che è particolarmente uno studioso dello scisma della politica ecclesiastica, quindi è stato l'anima delle quattro sessioni di lavoro romane, quindi del primo volume dei tre. Anna Maria Oliva, del CNR di Cagliari, che è stata premiata per il suo impegno per la prima volta la, diciamo, afferenza di un nuovo elemento, cioè per conto di Roma, un nuovo membro di questa commissione permanente. Cosa fa la commissione permanente? Organizza i congressi, semplicemente. Quindi si riunisce e stabilisce, congresso per congresso, quali sono le successive sedi e quali sono gli argomenti. Poi però è la singolo comitato scientifico, locale, nel caso nostro, le persone che ho detto in più, ovviamente Guido D'Agostino, che si curano poi di tutti gli aspetti concreti e dell'edizione. E con questo ho citato anche Guido D'Agostino, professore di storia moderna, grande, che ha avuto un privilegio, che era presente al congresso, il nono congresso della Corona d'Aragona, che pure si tenne a Napoli nel 1973. Poi è stato, non era però il principale organizzatore perché era un giovanissimo studioso, ma fu presente. Poi ha organizzato il secondo a Napoli, che è il sedicesimo congresso della Corona d'Aragona, di cui invece lui è in due volumi, di cui è stato il grande, diciamo, regista. Regista significa anche, veniamo a elementi più concreti, procurarsi finanziamenti delle istituzioni, procurarsi anche i finanziamenti per la pubblicazione, perché mi rendete conto che quando quasi un centinaio di persone arrivano, generalmente una parte si autofinanzia, ma c'è una parte di ospiti e ci sono poi, come in tutti i convegni, c'è poi tutta un'organizzazione, se proprio non si ospitano, si coordinano gli alloggi, si offrono dei pranzi, si fittano degli autobus, come noi li abbiamo portati in giro. Insomma, ci sono, in genere si unisce anche una visita al territorio, come succede in queste occasioni, che non sono solo occasioni scientifiche, ma sono anche, diremmo oggi, in tempi di distanziamento, no? Sono occasioni di assembramento, cioè occasione di scambi di conoscenza, di piacevoli, diciamo, conversazioni. Ricordo, a proposito di questo sedicesimo congresso, quello del 97, un buffet straordinario sugli spalti del castello e una mostra, gli spalti del Castelnuovo, con una vista, potete immaginare, meravigliosa, e non è un luogo che normalmente si visita, e ricordo anche che c'era una mostra di manoscritti della biblioteca aragonese, se non ricordo male, anche una mostra dei cosiddetti azuleios, cioè quelle ceramiche valenzane di influenza araba, che si ritrovano a Napoli. Quindi questi aspetti pure sono importanti, cioè Corona d'Aragona significa uno spazio politico, culturale, economico, con una integrazione notevolissima fra le industrie della Catalogna di Perpignano e di Valenza, le industrie manifatturiere e anche i noli, i commerci e le produzioni agricole di cui erano centro la Sicilia e il meridione d'Italia. E Guido D'Agostino, per una sfortunata circostanza, è attualmente il presidente della Commissione Permanente. Perché dico sfortunata circostanza? Non perché lui non meriti questo carico, ma perché è venuto a mancare, proprio recentissimamente, un paio di settimane fa, Salvador Claramunt di Barcellona, che era il presidente della Commissione Permanente. E normalmente l'organizzatore dell'ultimo congresso diventa il vicepresidente. Il presidente invece è eletto, è eletto ogni volta che si fa un congresso. Dunque a Napoli ci eravamo lasciati con Claramunt, Salvador Claramunt come presidente e per diritto, diciamo, Guido D'Agostino come vicepresidente. La prematura scomparsa di Claramunt ha fatto sì che Guido D'Agostino subentrasse come presidente e dunque l'aggettivo sfortunato ovviamente non era riferito a questa eventualità, ma alla scomparsa del caro Salvador Claramunt, il quale tra le ultime cose belle che ha fatto è stato ricevere questo volume che è arrivato, come potete immaginare, con tutti i disagi della pandemia, non esattamente nel dicembre, nel novembre del 20, quando è stato stampato, ma ai primi del 2021. È uno degli ultimi messaggi che è stato proprio quello di questa bellissima edizione, edizione veramente, grazie all'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, veramente di straordinaria qualità tipografica e di straordinaria perfezione, perché immaginate quanti errori, quanti refusi, poi tra l'altro con queste lingue diverse che sono presenti nei tre volumi, immaginate quanto sia stato impegnativo. E mi sembra di avere detto tutto, ho detto forse meno sul contenuto, ma il contenuto è totalizzante, cioè c'è tutto, nel senso che lo scopo è all'interno di queste categorie. Da un lato Corona d'Aragona è chiesa al tempo dello scisma, quindi tutto, diciamo così, però è chiaro che sono in questo caso prevalentemente relazioni politico-diplomatiche, politica ecclesiastica, politica ecclesiastica significa gestione dei benefici ecclesiastici, i vescovati, le monasteri, e via dicendo. Mentre memoria della Corona d'Aragona significa lunga durata delle istituzioni, modelli culturali, in senso ampio, no? Dalle architetture, ai manoscritti, alle miniature, anche alle opere letterarie. Però all'interno di queste categorie c'è un po' tutto, perché lo scopo è quello della riflessione polifonica, di che c'è anche ovviamente un articolo sui cantori nella cappella di Alfonso il Magnanimo, e anche questo è stato, immaginate, un crocevia di influenze umanistiche, cioè rinascimentali, da un punto di vista artistico e da un punto di vista della conoscenza della letteratura e della storiografia latina, ma anche fiammingo, perché il gusto di Alfonso il Magnanimo, dei catalani, dei castagliani, era molto influenzato anche dalle opere fiamminghe, sia in pittura e dal tardo gotico, no? Per cui in quel Castelluovo c'è un'enorme sala, la cosiddetta sala dei baroni, che ha un'altissima, 40 metri di altezza, che ha un soffitto, di cui pure si parla nel volume, un soffitto tipicamente tardo gotico, con le sue nervature, che è un'opera architettonica straordinaria di un architetto catalano sagrera, e poi a 30 metri c'è quest'arco di trionfo che richiama in primo luogo gli archi di Tito, di Vespasiano, di Costantino a Roma o di Tito, e quindi figure ispirate ai bassolilievi dell'arte classica, dell'arte greco-romana, con il pieno trionfo, perché lì nell'arco è rappresentato il trionfo del re, in senso, come dire, documentario, perché c'è proprio rappresentata l'ingresso trionfante di Alfonso il Magnanimo a Napoli, come gli imperatori romani dopo la vittoria, come anche Cristo quando entra a Gerusalemme, quindi ci sono tanti significati, e però al tempo stesso è un arco di trionfo perché si passa sotto per entrare nel castello, quindi c'è questa straordinaria innovazione, ed è lo stesso castello, quindi un castello dove al tempo stesso abbiamo una, non una contrapposizione, ma un dialogo, una interrelazione fra questi gusti e queste correnti artistico-architettoniche, e quindi appunto non è possibile, se non per rapidi flash, diciamo, mostrarvi la ricchezza di questo come di tutti i precedenti 19 complessi di volumi della storia della corona d'Aragona. Mi pare di aver dato una, spero, chiara e anche un po' rapida, perché non voglio tediare chi ci vede, chi ci ascolta. Non so se ha delle domande. No, è un quadro davvero completo, nel senso che riassumere in poco tempo un volume di 1600 e rotte pagine non è cosa di tutti i giorni, quindi è stato estremamente efficace. Io ne approfitto per segnalare che il volume si può acquistare online sul sito dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, che è visibile all'indirizzo www.isime.it e oltretutto se si acquista online sia anche uno sconto su un prezzo di vendita, che non è proprio quello di un tascavino. Questo è quello che sia scontato ed evidente per le dimensioni e la qualità anche del prodotto e l'importanza di questo lavoro su un mondo, perché questo è un universo, è cosmico si può dire, il mondo dell'Aragona, degli Aragonesi in Italia, che è poi il titolo di questo ventesimo congresso che voi avete tenuto nel 2017, mentre gli atti sono stati pubblicati da poco, a fine 2020. Novembre 2020. Sì, novembre 2020. Quindi io, professore, non posso far altro che ringraziarla tantissimo di averci illustrato questo volume. Invito tutti i nostri videoascoltatori a seguirci sul sito www.italiamedievale.org, dove troverete tutte le videoregistrazioni realizzate in questo interminabile anno di pandemia? Se posso aggiungere una cosa? Due cose. Una, non ho citato il quinto curatore, cioè Davide Passerini. Davide Passerini, noi siamo tutti un po' vecchiotti, lui è il più giovane, è un giovanissimo allievo che mi ha aiutato insieme ad altri nell'organizzazione del congresso. Il congresso napoletano in particolare, ne parlo perché della parte napoletana mi sono occupato direttamente, è stata un'esperienza direi esaltante per mettere insieme i finanziamenti, con un concorso delle istituzioni e delle persone più varie. Pensate che persino per gestire queste giornate con quattro sale contemporaneamente aperte abbiamo utilizzato una classe di un istituto di Giuliano per l'alternanza scuola-lavoro. Quindi li abbiamo anche preparati, loro dovevano, mi ricordo questo piccolo incidente iniziale quando bisognava preparare i beige, no? E loro sbagliarono perché per tutti gli spagnoli utilizzarono il secondo cognome. Quindi li dovevamo rifare tutti, perché ovviamente loro non riuscivano a decodificare, però questa piccola cosa si risolse naturalmente come tutte, però mostra anche lì come se si riesce a, se si riesce veramente con l'alternanza scuola-lavoro a fare qualcosa di concreto, ecco quei ragazzi non si dimenticheranno mai più come bisognava fare quella cosa. E dovevano ovviamente, siccome il castello contemporaneamente era visitato dai turisti, presidiare le aule, coordinare i vari problemi. E Passerini, più più grandicello, con altre quattro persone, era nella segreteria, poi si è rivelato molto bravo nella gestione editoriale, cioè le bozze, la correzione, gli indici. Quindi è stato, come dire, promosso e per lui è stata anche una bella occasione di imparare concretamente. Cioè come i suoi più giovani, diciamo, compagni hanno imparato quanto era complicato organizzare un convegno nelle sue, anche più piccole, diciamo, difficoltà. Noi poi avevamo anche, siamo andati un giorno anche all'Istituto di Cultura, c'era anche il console di Spagna, così come a Roma c'era l'ambasciatore di Spagna, tra l'altro era il periodo degli scontri, delle manifestazioni in Catalogna, quindi ci fu pure qualche tensione fra i catalanisti, intesi politicamente come indipendentisti e gli altri che non erano necessariamente castigliani, perché ovviamente, come sapete, c'è la frattura interna al mondo catalano stesso e questa era la cosa che dovevo dire. Ma la seconda cosa che voglio dire è che appunto un libro del genere non è un romanzo e non è neanche una monografia da tenere sul comodino, per cui io esorterei chi ci vede anche a fare una cosa molto semplice, cioè a segnalarlo alle biblioteche, in modo che le biblioteche lo acquistino, perché questo è un modo per arricchire il patrimonio per la comunità tutta, diciamo così. Questo raramente, è difficile che capiti sistematicamente, perché le nostre biblioteche non solo hanno pochi finanziamenti, ma più spesso hanno delle procedure di acquisto che non riescono ad essere sistematiche, proprio perché i finanziamenti non sono sistematici e quindi gradiscono molto le segnalazioni da parte degli utenti delle biblioteche. Mi sembra una precisazione importante e anche utile. Quindi io la ringrazio davvero tanto, è stato un piacere e sono affascinato da questo universo aragonese e spero lo siano anche tutti i nostri videoascoltatori. Grazie ancora professor senatore, grazie a voi e a presto. Arrivederci, arrivederci. Grazie a voi.